L'incidente è nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio, poco dopo le 17, a Dozegna, alla rotatoria, situata sulla strada provinciale 222, coinvolto una Volvo XC40 e uno scooter Honda Vision. Il conducente del motoveicolo è stato sbalzato a terra. Sul posto sono prontamente intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e di Castellamonte, che dopo le prime cure lo hanno trasportato all'ospedale di Ivrea, illesa la donna che era alla guida dell'auto. Per lei solo tanto spavento. Grazie a tutti.